Salve unici appassionati di Football Manager, qui con voi come sempre GioMai44 e ovviamente Football Manager Italia Siamo qui di uno di Football Manager 2017 con il nostro mitico chiave e oggi andremo a parlare di nuovo di calcio mercato Siamo all'11 luglio, ci sono tantissime novità, quello che voglio dirvi è che sto studiando anche diversi tipi di tattica visto che ho letto molti dei vostri commenti e queste le andremo a vedere nell'episodio prossimo con la partita con l'Atletico Madrid Ce ne sono due di nuove, le sto modificando, le sto studiando, molto probabilmente le andrò anche a provare nella partita con il Cittadella e in quella con la Sampdoria proprio per questo voglio darmi un po' più di tempo e ve le mostrerò insieme alla partita con l'Atletico Madrid Prima di andare a parlare del calcio mercato però ragazzi voglio farvi una piccola premessa Ogni singola volta che io parlo dell'allenamento c'è sempre lo stesso tipo di commento che mi dice che l'allenamento di forma fisica non serve a far riprendere la condizione e la forma fisica dei giocatori e che l'allenamento tattico non serve a far imparare più velocemente la tattica ai giocatori ma che la forma fisica serve a migliorare le caratteristiche fisiche dei giocatori e la tattica quella tattica dei giocatori Ripeto, in primis, ognuno di voi può fare ciò che gli pare Nelle vostre cariere siete liberissimi di fare quello che volete Io sono oramai anni che faccio questo tipo di allenamento e mi trovo bene così Proprio per questo perché devo cambiare Poi ragazzi, io ogni volta che dico una cosa su Football Manager mi vado ad informare Quindi vado a leggere i manuali, vado a leggere delle guide Perché sia per interesse personale ma anche perché voglio dare a tutti voi le notizie più giuste e corrette Senza dire appunto stronzate Proprio per questo io ripeto, in base alla guida sugli allenamenti In base anche al manuale di Football Manager L'allenamento forma fisica serve appunto a far recuperare la forma fisica e la condizione fisica dei giocatori Infatti, se andate a vedere anche nei forum, molti ragazzi usano questo tipo di allenamento Sia nel pre-campionato ma anche nelle pause nazionali o addirittura nelle pause invernali Quindi non è che io mi invento cose E anche per la tattica, raga, mica servono, cioè mica esistono dei parametri tattici La tattica serve a far imparare più velocemente la tattica ai giocatori Ma diciamo che non mi invento niente, ripeto, sono cose che sono scritte sul manuale Io ogni volta, ad ognuno, singolarmente, ad ogni ragazzo che mi scrive questo commento Scrivo sempre la stessa cosa, sempre lo stesso papiello Ma oramai insomma mi sono anche un po' scocciato di ripetermi sempre Quindi lo dico qui nel video, una volta e per sempre Raga, io mi trovo bene così Poi ognuno fa ciò che gli pare Quello che ci tengo a dire però ragazzi è che l'ultimo commento che ho ricevuto sugli allenamenti È stato fatto da un ragazzo veramente molto gentile Per questo lo ringrazio Diciamo che non c'è niente ovviamente contro di lui Però ci tenevo a rispiegare per l'ennesima volta questo fatto Visto che è un commento che si ripete più e più volte Detto questo, finalmente possiamo parlare di calciomercato Non sapete quanto tempo ho perso per fare questa parte che è tipo solo di due minuti Però non fa niente Andiamo subito a bomba Ci sono un casino di novità, belle o brutte Alcuni piaceranno, ad altre meno Ma ovviamente adesso vi spiegherò con calma tutta la situazione Allora, le prime cessioni, quelle meno importanti Menedetti, Bassoli e Gatto Tutti alla stessa squadra Abbiamo ceduto comunque una buona cifra 350.000 euro, 300.000 e 200.000 euro Sono comunque 850.000 euro Quindi mica pizza e fichi Poi abbiamo ceduto un po' qua al Bastia per ben 8 milioni Veramente una mega cessione Ci abbiamo fatto una barca di soldi Diciamo che 8 milioni non sono cash Ma mi pare che sono 6 subito e 2 in 2 anni O mi pare 5 subito e 3 in 2 anni Però ugualmente sono un sacco di soldi Considerando il fatto che lo avevamo in prestito Con diritto di riscatto a 4 milioni La squadra che ce l'aveva, che ora non mi ricordo Il Panathinaikos non l'ha riscattato Ma meglio per noi perché appunto il Bastia l'ha pagato il doppio Poi abbiamo ceduto Damian a 38.000 euro Lo so che ci potevamo fare qualcosina in più Però ragazzi meglio 38.000 euro che spendere i soldi per rescindere il contratto Visto che nessuno lo voleva Provedel a 575.000 euro Lo so che ci potevamo fare anche qui qualche soldino in più Che assolutamente non è un portiere scarso Però insomma per una squadra che va in Champions League Diciamo che non va più bene Sicuramente poteva fare il vice Però meglio Assen senza ombra di dubbio Poi c'è Manfrin che abbiamo venduto per 300.000 euro Pure qui una buona cessione Abbiamo mandato in prestito un baie Guadagnandoci pure 46.000 euro al mese Quindi sono pure 500.000 euro all'anno Mica male insomma Per un giocatore che diciamo sulla carta Per lo staff non è male ma a me non piace tantissimo Quindi per il momento lo diamo in prestito Vediamo se cresce Se no o va in scadenza O gli rinnoviamo il contratto e poi lo vendiamo Insomma l'ho mandato in prestito Perché tanto potrebbe diventare un buon giocatore Tanto può diventare nulla Insomma scarse Quindi al massimo ci guadagniamo comunque 500.000 euro di prestito oneroso Poi c'è un acquisto folle del Tottenham Che veramente non ho capito Questo Bertasini che ha pagato sì 40.000 euro Ma è veramente scandaloso Quindi non capisco perché il Tottenham ci abbia voluto puntare Poi invece una buona gestione Quella di Tavares A un milione Che abbiamo sostituito con De Maio nello scorso episodio Devo dire pure qui Una buona gestione Ci abbiamo fatto un buon milioncino A Bindesbrau che a quanto pare gli serviva un difensore centrale Poi c'è Calderoni 575.000 euro Anche qui non ha fatto male Sono comunque soldi in più Di giocatori che al massimo avremmo dovuto rescindere il contratto Quindi veramente ottimo Poi c'è stata la gestione di Thomas Kupitz Una buona gestione visto che ci abbiamo fatto un milione e quattro Per un giocatore che insomma può giocare a stento in una squadra di bassa classifica Sicuramente ci potremmo fare qualcosina in più Ma meglio un milione e quattro oggi che zero domani Poi c'è stata la gestione di Pucino Anche lui 600.000 euro Mica Pizza e Fighi Veramente questa squadra turca si è comprata un mezzo Chievo Under 20 E poi la gestione di Filippo Costa in prestito al Norwich Per 230.000 euro Più il 100% dell'ingaggio Veramente grazie a questi prestiti Ci stiamo facendo un bel po' di soldini Quello che c'è da dire ovviamente è che ho saltato due gestioni Ma perché vanno spiegate più nel dettaglio La prima è quella di Sorrentino Devo dire che finalmente è finita la telenovelas su Stefano Insomma su Sorrentino Però ragazzi è stata una gestione non voluta In primis perché alla fine mi dispiace scontentare molti di voi Perché alla fine quasi il 70% dei commenti era pro Sorrentino Quindi dovevamo tenerlo Io infatti avevo deciso di accontentarvi Sono sincero se questa carriera l'avessi fatta off screen L'avrei venduto ma subito Però appunto essendo online Avevo deciso di tenerlo per accontentare tutti voi Il problema è stato questo Che Marsiglia oramai è orfano di Mandanda da due anni Quindi cercava un portiere di riserva Ci ho fatto l'offerta per Sorrentino e io l'ho risiutata Però poi che cosa è successo? Che Sorrentino era scontento Io ci ho provato a parlare Sorrentino però si è incaponito Che voleva essere venduto al Marsiglia Lo capisco anche perché ci guadagna quasi il triplo E quindi niente ragazzi Alla fine ho deciso di venderlo Sia perché obbligato Ma poi ragazzi sinceramente Ora sono sincero di nuovo Era già un giocatore che volevo vendere In più era scontento Quindi mi dispiace non avervi potuto accontentare Ma ragazzi Credo che sia stata la decisione più giusta In primis perché ero quasi obbligato a venderlo Poi avere un giocatore scontento E per di più in calo Secondo me non ha molto senso Lo so il lato romantico un po' va a puttane Però se vogliamo sempre parlare di sentimentalismi Vediamola nel modo che abbiamo venduto Sorrentino Alla nostra vecchia squadra Il Marsiglia Quindi sicuramente sappiamo che è in buone mani E niente ragazzi Ripeto mi dispiace ma Quando un giocatore è scontento Quando è in calo Quando alla fine manco a me convince al 100% Credo che sia poi giusto fare questo Poi comunque ci abbiamo guadagnato 875.000 euro Quindi è mica male Ripeto mi dispiace ma è il gioco Poi dopo Sorrentino abbiamo ceduto anche Julian Green In prestito come Filippo Costa Anche qui ci facciamo 230.000 euro mensili In più ci pagano il 100% dell'ingaggio Quindi comunque ci facciamo bei soldini Speriamo anche che Lerta lo faccia giocare Lo faccia crescere Così prendiamo due piccioni con una fava I soldi e la crescita di un nostro giocatore Che attualmente ha bisogno ovviamente Di una squadra che lo faccia giocare titolare O comunque in più partite E sicuramente poi in futuro può diventare un ottimo giocatore L'abbiamo sostituito secondo me al meglio Con uno dei migliori giocatori che potevamo prendere Perché ragazzi purtroppo il Chievo è sì in Champions Abbiamo sì 30 milioni di euro da spendere Ma purtroppo il nostro appeal rimane veramente molto molto basso Quindi di giocatori veramente forti Che vogliono venire da noi Sono molto molto pochi E diciamo che ad esempio Molti giocatori che sono in prestito Non vogliono venire Tipo c'era i Wobby dell'Arsenal Che mi piace molto Che non voleva venire C'è Piazza della Juve Che non è voluto venire C'è anche Odegaard del Real Madrid Che non è molto convinto della piazza Quindi alla fine secondo me Fra i giocatori che potevamo prendere Ma non in prestito Dico in generale Fra i giocatori che potevamo sia acquistare Che prendi in prestito Insomma anche fra gli svincolati Adelaide è il migliore Perché comunque potenzialmente è molto forte Attualmente già è veramente molto molto valido Ha ottime qualità fisiche Ha ottime qualità tecniche E ha anche buone qualità mentali Deve crescere ma raga Ha soli 19 anni Un prestito molto vantaggioso per noi Perché comunque paghiamo solo il 40% dell'ingaggio E in più abbiamo diciamo La possibilità di riscattarlo con soli 12 milioni Lo so che potrebbe fare la stessa fine di Carroll Ma 12 milioni per Adelaide hanno molto più senso Che 11 per Carroll Sia perché comunque lui ha 19 anni Quindi ha un futuro roseo davanti a sé E in più perché l'anno prossimo Spero che avremo ancora più soldi Vincendo anche qualcosina Quindi diciamo che questi 12 milioni Sono abbastanza fattibili Ripeto un giocatore che mi piace molto E anche perché cercavo un laterale Che potesse giocare sia come centrale Quindi come trequartista centrale Ma anche come falso 9 o seconda punta Questo perché come già vi ho detto all'inizio video Sto studiando diverse tattiche Quindi ci serve un giocatore che possa fare più ruoli Lui lo può fare al meglio Un giocatore che ripeto sia adesso Nell'attuale sia nel futuro È molto molto valido Appunto come centrocampista offensivo sinistro È il migliore fra quelli che abbiamo E lo so che questo nome non ha un grandissimo appeal Non vi farà strappare i capelli dalla testa Come ve li farà strappare quel giocatore che ho comprato dopo Che andremo a vedere dopo Però sicuramente è il migliore Che potevamo prendere Molto forte E io sono molto contento di questo acquisto L'anno scorso comunque con l'atletico Pamplona Ha fatto un buon campionato 33 presenze, 10 gol Ha un anno in più Quindi anche più esperto E speriamo ci possa dare una grande mano Sicuramente più forte di Julian Green E speriamo bene raga Io ci credo molto Perché l'ho voluto fortemente Sia perché economicamente È un'operazione molto vantaggiosa E sia perché lui Mi ispira fiducia Poi ha soli 19 anni Quindi non avremo manco problemi Con la registrazione Il colpo che vi farà invece Strappare i capelli dalla testa È Witzel Manco a fare l'opposta raga Io nel video precedente Ho detto Mica possiamo prendere Marchisio Mica possiamo prendere Witzel E invece raga Vedendo fra gli svincolati C'era ancora lui E nessuna squadra era interessata O meglio Erano interessati Real Madrid E Marsiglia Ma nessuna delle due Ha fatto offerte Per il giocatore belga Allora io ci ho provato Raga ho detto Vabbè Vediamo un po' che succede Offriamogli il contratto Ovviamente il più basso possibile 3 milioni e 650 mila Lui all'inizio chiedeva 6 milioni Ma trattando Insomma siamo arrivati A questa cifra E tipo il 9 di luglio Ho accettato E ero felicissimo Quando ho visto Witzel Può venire Cioè Accetti che Witzel Firma il contratto Arrivi da te Ovviamente ho fatto un salto Dalla sedia Sono stato veramente felicissimo Perché lui è il top player Che cercavamo In più è a 0 E quindi veramente È un acquisto Ottimo Cioè non c'è niente da dire Su di lui Raga Veramente Bestiale Ci farà fare sicuramente Il salto di qualità Adesso a centrocampo Siamo pieni Zeppi Di giocatori fortissimi Villapoglie De Guzman Evandro El Cadurri Poi abbiamo anche il giovane Bastien Quindi veramente È un centrocampo di fuoco E sono molto molto contento Perché comunque Con gli acquisti Come questo qua Di Witzel Destro Berainio Soprattutto Berainio E Witzel Stiamo formando Un Chievo Da Champions O almeno Diciamo Da Europa League Non c'è molto da dire Ragazzi Su di lui È un fenomeno Insomma Quindi Sono molto molto felice Per questo acquisto Quindi tanta tanta roba E in più Il portiere che va a sostituire Sorrentino È Calini Ce lo so che ad alcuni Piaceva Ad altri un po' meno Ma ragazzi Parametro 0 Che vale 7.750.000 Ottimo Insomma Cioè Chiedeva 1.800.000 Trattando Siamo scesi All'ingaggio Che prendeva Sorrentino Secondo me Uno dei migliori portieri Che potevamo prendere Sia fra gli svincolati Che non svincolati C'era Ochoa Ad esempio Ma Potevamo prenderlo in prestito Ma volevano un ingaggio Di tipo 2 milioni In più Per il riscatto Ce ne volevano 20 Quindi Meglio Calinic Che almeno per quest'anno È il titolarissimo Poi vediamo Se l'anno prossimo Troviamo di meglio Anche a gennaio Già troviamo di meglio Possiamo Cambiare Ma facendo già Un'ottima plusvalenza Perché appunto Vale circa 8 milioni Quindi sono molto Molto contento Di questo acquisto Speriamo bene E oramai La squadra È quasi completa Ragazzi Perché Vedete Qui c'abbiamo Calinic Peruzzi Venasio Zucanovic Taylor Villà Witzel De Guzman Adelaide Rodriguez Berainio Hansen De Maio Bagliu Poyer Caduri Birs Adesso Velasquez Tonirato Evandro Agra E inglese Poi anche Bastienne Quindi una rosa Veramente molto Molto forte E competitiva Ovviamente ho messo Adelaide Titolare Ma si alternerà Molto con Birs E Agra L'ho messo Giusto così Per sfizio Ma ripeto Si alterneranno Molto Diciamo che La rosa è quasi Completa Il mercato È quasi Finito Però diciamo Ci sono Gli ultimi Due Punti Interrogativi Per quanto riguarda Diciamo La registrazione Non dovremo avere Problemi Perché siamo 23 Abbiamo sempre Due Under 19 Che sono Adelaide E Tony Lato Poi c'è anche Bastienne Però Quello che voglio Chiedervi è Bastienne Che facciamo Lo teniamo Come Jolly Che può giocare Sia come Terzino Destro Sia come Centrocampista Sia come Laterale Destro Oppure lo Mandiamo in Prestito Perché in teoria Potremmo Sia usarlo Come Jolly E farlo Giocare Con l'Under 20 Settandolo Appunto Allena Gioca Con l'Under 20 Tipo per 45 Minuti Quindi Comunque Un po' Cresce Oppure Lo mandiamo In prestito Semmai In una Serie B Dove può Giocare Titolare Fatemi Sapere Perché In teoria Però Anche E' importante Vedere il futuro Di questo giocatore Che può diventare Veramente molto Molto valido Quindi ripeto Fatemi sapere Qui sotto Nei commenti Cosa fare Con lui Poi ragazzi Inglesi Sinceramente Alcuni di voi Mi hanno detto Di venderlo Ma Lo so che Potrebbe Diventare Scontento Giocando poco Però Trovare un attaccante Così valido Che prende Così poco Di stipendio Secondo me Molto Molto Difficile Lo so che Ripeto Non è Destro Non è Lewandowski Però Quando ha giocato L'anno scorso Ha sempre segnato Quindi Secondo me E' un giocatore Che può rimanere E può fare la riserva Di destro Senza Troppi problemi L'ultimo vero Punto interrogativo E' Belasquez Perché Sinceramente E' un difensore Che a me piace L'anno scorso E' stato titolarissimo In questo chievo E' ha fatto Veramente Molto Molto Bene E' un giocatore Che comunque Sulla carta Non è male Poi guadagna pure Pochissimo 288 mila euro Però sicuramente Potremmo sostituirlo Farci Si 3 milioni Vendendolo E potremmo anche Sostituirlo Con un giovane Diciamo Del suo valore Che poi crescerà Anche Poi per questo Sono un po' Indeciso Voi che mi consigliate Lo teniamo Almeno per quest'anno Gli facciamo fare La riserva Però l'ultima riserva Perché la prima E' De Maio Oppure De Maio Mi sbaglio sempre Oppure lo vendiamo Sostituendolo Con un giovane Fatemi sapere Anche qui Diciamo che sono un po' Indeciso Perché Ci tengo Da un lato Perché Ha fatto molto bene Quest'anno Col chievo Però tra l'altro Sicuramente Ci possiamo fare 3 milioni E sostituirlo Con un giovane Di belle speranze E ugualmente forte Non lo so Fatemelo sapere Sicuramente il giovane Guadagnerà Il triplo Di Velasquez Questo E' poco ma sicuro Per questo Sono un po' Indeciso E anche un po' Perché ci tengo A lui Fatemi sapere Ragazzi Fatemi sapere Sia per Bastienne Che per Velasquez Poi ragazzi Credo che il resto Della rosa Va più che bene Commentate anche voi Fatemi sapere Se questi colpi Vi sono piaciuti Credo che Witzel Piace a tutti Per Kalinic Credo che alla fine Sia un ottimo portiere Adelaide Ovviamente lo so Che alcuni di voi Si aspettavano Il grande colpo Ma ripeto Molti giocatori Non sono voluti venire Anche Piazza Della Juve Ha rifiutato Il Chievo E quindi C'era poco da fare Ragazzi Lui Fra quelli che potevamo Prendere E' il migliore Poi nulla ci vieta Di migliorare A gennaio Anche ad agosto Se c'è il colpo Finale Possiamo farlo Se mai possiamo vendere Che ne so Agra Biesa O Cristian Rodríguez Poi vediamo Possiamo anche mandare in dita Adelaide Se troviamo di meglio Però per il momento Secondo me E' un ottimo acquisto Detto questo ragazzi Fatemi sapere nei commenti Che ne pensate del calciomercato Che ne pensate di Velasquez Che ne pensate di Bastien Detto ciò Come sempre Mi piace a bomba Commenti a bomba Condividete a manetta E come sempre Un saluto a Mike94 Ovviamente Football Manager Italia Ciao ragazzi